Sine con la Valle, quest'oggi giochiamo in casa, in casa sua, perché giustamente si parlava di decentralizzare questo ruolo della città di Reggio Calabria anche a favore di tutti questi comuni che sono altrettanto importanti per la formazione dell'Unione. Quindi ieri a San Roberto, questa mattina a Villa San Giovanni. Sì, l'Unione dei Comuni che in fondo è un'esperienza che insieme abbiamo già provato, la comunità montana ci ha insegnato che è necessario stare insieme, che è necessario fare rete, che è necessario ragionare e discutere di tutti quelli che sono i problemi dell'area dello stretto. Ma adesso c'è una nuova esperienza, quella dell'area metropolitana, su cui c'è la necessità di confrontarsi, di arrivare preparati, perché dobbiamo dircelo, noi meridionali abbiamo sempre l'emergenza accanto e anche in questo caso lavoriamo quasi all'ultimo secondo, all'ultimo minuto. Ma comunque è un'attività importante che si è iniziata, c'è un dialogo importante tra i colleghi sindaci che noi speriamo anche di poter trasmettere ai cittadini dell'area dello stretto, perché l'esperienza della città metropolitana è qualcosa di importante, su cui bisogna lavorare in maniera seria. Per quanto mi riguarda io sono convinto che uno dei principali leitmotiv di questo stare insieme sia quello di realizzare le infrastrutture. Spesso abbiamo delle difficoltà a dialogare nei territori proprio perché noi ereditiamo delle strade che sono state realizzate 50 o addirittura 60-70 anni fa e non siamo riusciti né ad ammodernarle né a migliorarle. L'unica nota positiva è la Gallico Gambari, ma su questo bisogna lavorare per realizzare tante altre infrastrutture che servono a migliorare i rapporti nel territorio e a realizzare veramente la città metropolitana. E non parlo chiaramente soltanto di strade, ma anche di ferrovie, di alta velocità, di alta capacità, di porti, di aeroporti e perché no anche di ponte. Io ho un augurio che mi faccio e che faccio a tutti i colleghi che quest'area possa essere veramente infrastrutturizzata come lo è in tutta la nazione. Siamo in questa fase gli ultimi, ma dobbiamo ribellarci a tutto questo insieme, dobbiamo gridare, dobbiamo chiedere quello che serve veramente al territorio, le infrastrutture.